Donne sante, donne colte, donne coraggiose. Un omaggio alla figura femminile racchiuso all'interno della Basilica del Santo che in occasione dell'8 marzo celebra con un percorso artistico e fa scoprire le protagoniste della storia padovana. Un tempo la sepoltura nel santuario era un onore riservato quasi esclusivamente agli uomini, tuttavia si scoprirà che all'interno del Santo ci sono donne laiche che si sono contraddistinte nella cultura e nelle arti e che per questo vengono ricordate. C'è un busto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna al mondo che si è laureata. Lei voleva studiare teologia ma il vescovo dell'epoca glielo impedì ritenendo che non fosse materia per una donna e così ripiegò sulla filosofia. Sepolta accanto al marito c'è anche Giacoma da Leonessa, sposa del condottiero Gattamelata. Si narra che fu lei a chiamare il Donatello a Padova per celebrare il marito con la famosa statua equestre che svetta nel sagrato della Basilica. Lei chiese di essere sepolta nella cappella tra il marito e il figlio con un cielo stellato sopra la sua tomba. Donne che i frati del Santo insieme al messaggero e alla veneranda Arca vogliono far conoscere ai fedeli con visite gratuite il giorno dell'8 marzo e che hanno già registrato il tutto esaurito.